Quattro riconferme ad Aprica, Valdidentro, Valdissotto e Campodolcino, un colpo di scena per il comune di Valmasino e due vice sindaci a Valfurba e Tartano che conquistano la fascia tricolore. Questo per quanto riguarda i sette comuni della provincia chiamati a scegliere il sindaco. Quanto invece alla percentuale di affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia è stata del 17,44%, addirittura inferiore alla media nazionale che sfiora il 21%. In controtendenza tuttavia Campodolcino che si piazza addirittura al terzo posto tra i comuni lombardi con un'affluenza media del 67% per i cinque quesiti. Tornando alle elezioni amministrative, a Valdidentro confermato Massimiliano Trabucchi, unico candidato con la lista Valdidentro 20-27. Tassissima l'affluenza alle urne, più del 20% in meno rispetto alla precedente tornata. Soltanto il 46,51%, ovvero 1.532 votanti sui 3.294 a 20 diritto. 178 addirittura alla somma delle schede bianche e nulle. Si prepara al proprio quarto mandato anche Alessandro Pedrini a Valdisotto, il primo cittadino con la sua lista Vivere Valdisotto. Con le sue 1098 preferenze pari al 68,4% ha praticamente doppiato la giovane sfidante Valentina Donagrandi di Valdisotto Dinamica che si è fermata a 515 voti. E restando in Alta Valle a Valfurva upgrade per il vice sindaco Luca Bellotti che diventa primo cittadino. La sua lista a esserci ha ottenuto 667 preferenze, 107 in più rispetto a quelle della lista Valfurva-Riva che candidava a sindaco Gianfranco Saruggia. A Tartano vittoria netta per Osvaldo Bianchini. Con 111 voti su 158, la sua lista Uniti per la Valtartano ha ottenuto il 70,25% delle preferenze. Anche Bianchini non è nuovo agli incarichi istituzionali avendo già ricoperto appunto il ruolo di vice sindaco del paese. Lista unica da pricca per il sindaco Dario Corvi che è stato riconfermato con 661 preferenze. Tra le riconferme anche quella a Campodolcino di Enrica Guanella che con la lista Campodolcino-Guardavanti ha ottenuto 348 preferenze su 500 schede valide pari al 68,77%. Il candidato della lista Viva-Campodolcino Carmine Albiniano si è fermato invece al 31,23% con 158 voti. Quanto invece a Valmasino per un pugno di voti 25 soltanto Pietro Taeggi candidato della lista insieme per la Valmasino con 304 preferenze pari al 52,14% ha avuto la meglio sull'uscente Simone Songini che si è fermato a 279 preferenze. Grazie. Grazie.